Luisa Corna Shock, nove anni di storia d'amore finiti così. Ciao a tutti, benvenuti su Top 5 News Italia, il vostro punto di riferimento per le notizie e il gossip più interessanti. Oggi vi portiamo una notizia speciale che ha commosso molti di noi. Sabato 9 settembre, nella suggestiva Palazzolo dall'Oglio, nel cuore della provincia di Brescia, due cuori affini hanno unito le loro vite in un matrimonio da favola. Luisa Corna, la celebre showgirl e cantante italiana, e Stefano Giovino, ufficiale dei Carabinieri, hanno finalmente pronunciato il fatidico sì. La cerimonia si è svolta nella suggestiva chiesa della Madonna di Lourdes ed è stato un momento di grande emozione e felicità. Ma c'è molto di più da scoprire. Questa storia d'amore è iniziata nel lontano 2014. Luisa Corna, oggi 57 anni, e Stefano Giovino, 42 anni, si sono incontrati e l'amore tra loro è sbocciato rapidamente. Molte persone hanno notato la differenza di età, ma come ha dichiarato Luisa in un'intervista, quella differenza è diventata insignificante quando Stefano è diventato parte della sua famiglia. Dopo nove anni d'amore, il grande giorno è finalmente arrivato. Le undici del mattino, sotto un cielo azzurro di settembre, Luisa ha camminato lungo la navata, affiancata dalla sua madre. Suo padre, Giacomo, purtroppo, non ha potuto essere presente a causa della sua prematura scomparsa molti anni fa. Luisa ha condiviso il suo unico rimpianto. Suo padre non ha avuto la possibilità di conoscere Stefano. Luisa indossava un meraviglioso abito bianco, mentre Stefano onorava la sua professione indossando la divisa militare. Una scelta che ha reso il giorno ancora più speciale. Essendo Stefano Giovino un ufficiale dei carabinieri, la coppia è stata accompagnata da un picchetto d'onore durante la cerimonia. Questo gesto ha reso l'evento ancora più solenne e significativo. Questo matrimonio era originariamente previsto per il 2020, ma è stato rimandato a causa della pandemia. Ma come si suol dire, meglio tardi che mai. Oggi, finalmente, Luisa e Stefano hanno coronato il loro sogno d'amore. Dopo la cerimonia in chiesa, gli sposi e gli invitati hanno proseguito la festa con un ricevimento intimo, all'insegna della musica e della gioia. E ora, cari spettatori di Top 5 News Italia, vogliamo sapere la vostra opinione. Cosa pensate di questo matrimonio? Siete felici per Luisa e Stefano? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete i vostri pensieri con noi. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella per tutte le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle notizie più interessanti e il gossip più scottante. Grazie per essere stati con noi oggi su Top 5 News Italia. Ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao!